CERTE VOLTE Lupo o l'olà, l'olà. Cosa? Lupo o l'olà e castello o l'olè. Ma come diavolo pare? È lei che ha cominciato. No, non è vero. Non insisto, è lei il padrone. Bene. Eccolo l'olà. Casa. Eccolo l'olà. Mai visti due così. Grazie, dottore. Eh? Non c'è di che. Io sono Frau Blücher. Fermi! Molto piacere. Io sono il dottor Frankenstein. Questa è la mia assistente Inga. Posso presentarle Frau Blücher. Ma che cos'hanno? L'ascorterò di sopra nel suo appartamento, Herr Dottor. Le prego, voglia seguirmi. Igor, vuoi portare il bagaglio appena è finito per piacere? Sì, padrone. Dopo di lei, Frau Blücher. Dopo di lei, Frau Blücher. Blücher! Blücher! No. 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 Grazie a tutti